Si sono in caso di Omane, a Fratelli e a Icseacare che la Ismai Ressa Si ne ha pennelli, non hanno gioccia, scusa, non vai Ma non si si so, ma cattava, non si so, ma non si so, ma cattava, non si so, ma non si so Ma non si so, ma cattava, ma non si so, ma cattava, ma non si so Ma non si so, ma cattava, ma non si so